Oggi è la giornata mondiale del volontariato ricorrenza internazionale celebrata il 5 dicembre di ogni anno ormai dal 1985. Il suo obiettivo è quello di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità delle persone che si mettono a disposizione degli altri in tutto il mondo. Giornata mondiale del volontariato per il 2018 Il tema della giornata internazionale del volontariato è i volontari costruiscono comunità resilienti quest'anno. Si celebra lo sforzo dei volontari nel fortificare l'ambito locale e la resilienza delle comunità nel momento di confrontarsi con i disastri naturali, i problemi economici e i condizionamenti politici. Fare del bene è sempre coli Il volontariato non ha età e non ha tempo mettere a disposizione parte del proprio tempo è possibile, dai ragazzi ai pensionati. E questo vale oggi come valeva qualche anno fa. Fa tenerezza guardare questo spot degli anni 90 una pubblicità progresso davvero vintage, ma che vuol veicolare un messaggio ancora assolutamente attuale volontari, siete i nostri supereroi.